Salve a tutti amanti delle storie e benvenuti in un nuovo video recap, quei video in cui vado a riassumervi le stagioni precedenti o i film precedenti di una serie o di una serie di film in uscita. Oggi parliamo di Tenebre ossa, sta per uscire infatti la stagione 2 e quindi serve una rinfrescata per capire e ricordare che cosa è successo nella stagione 1. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella e supportare i miei contenuti se vi piacciono. Il protagonista della storia è Alina Starkov, un'orfana e una cartografa del primo esercito di Ravka. Il migliore amico, nonché grande cotta di Alina, è Mal, anche lui orfano. I due sono cresciuti insieme e ora fanno entrambi parte del primo esercito. Il grande problema di questo mondo è la faglia, questo enorme muro d'ombra che divide a metà il paese. La trama si avvia quando parte del primo esercito, tra cui Alina e Mal, si ritrova a dover attraversare la faglia per reperire i viveri. A capo della spedizione c'è una griscia, nome con cui vengono indicate le persone con poteri. Ce ne sono di vario tipo, in sintesi possono governare gli elementi, i corpi o le sostanze chimiche, che fanno parte del cosiddetto secondo esercito. Inizia quindi la traversata, è tutto buio e ci sono i volk, rastrani mostri affamati e pericolosi. L'obiettivo è passare inosservati, uno scemo però si caga sotto e accende una lanterna. Anche Alina viene catturata dai mostri, ma in quel momento si illumina, questo allontana i mostri e salva la situazione, ma la fa diventare oggetto di interesse. Così viene portata dal generale Kirgan, capo del secondo esercito, anche lui, griscia, è capace di controllare le ombre. Qui viene testata per capire se anche lei è una griscia, ovviamente sì, lo è. Ma non una qualsiasi, è la leggendaria Sun Summoner, in italiano dovrebbe essere Evocaluce. Il suo destino è distruggere la faglia e salvare il mondo. La notizia dell'esistenza delle Evocaluce arriva fino a Catterdam. Qui conosciamo i corvi, maghi del crimine, in particolare Inej, lo spettro, acrobata e spia incredibilmente silenziosa, Jasper, pistolero molto dotato, e il loro capo, Kaz Breaker, la mente criminale dietro tutto. Vengono ingaggiati per rapire Alina in cambio di un milione di Kruga. A star loro con il fiatto sul collo c'è Pecca Rollins, un malavitoso, inquietante e nemesi di Kaz. I tre corvi quindi decidono di attraversare la faglia per poter portare a termine il loro rapimento. In quanto griscia, Alina viene separata da Malle e portata al piccolo palazzo, luogo in cui griscia vivono e si allenano. Qui inizia ad allenarsi prendendo solo mazzate. Non va meglio con le elezioni private e con Bagra, una vecchia donna che cerca di insegnarle a governare i suoi poteri. Alina impara molte cose, tra cui l'origine della faglia, creata dal black eretic, o eretico scuro, che è un antenato del generale Kegan, Alexander. Al piccolo palazzo conosce Genia, griscia in grado di alterare l'aspetto proprio degli altri, che diventerà sua confidente e amica. Inizia a legare anche con Alexander, che si scoprirà un tipo ombroso e affascinante. Alina e Mal però non si sono dimenticati e si scrivono lettere a vicenda, che però non arrivano mai a destinazione. Questo porta Alina tra le braccia del generale e Mal a cercare un modo per raggiungerla. Quando arriva all'incarico dal secondo esercito di cacciare un cervo magico, Mal coglie al volo l'occasione per poter rivedere l'amica. Il cervo è un amplificatore in grado di amplificare il potere del griscia che lo uccide. Nella missione Mal perde i suoi amici, ma riesce a scoprire dove si trova il cervo. Va così al piccolo palazzo per comunicare la notizia in cambio di un incontro con Alina. Lei però è impegnata in una festa dove è l'attrazione principale, mostra i suoi poteri e tutti ne restano affascinati e la chiamano santa in quanto parte del culto delle vocaluce. A questa festa sono presenti anche i corvi che vogliono portare a termine il loro piano, ma il generale tiene Alina per sé e i due iniziano a sbaciucchiarsi nelle sue stanze. Arriverà però la notizia che qualcuno vuole assassinarla, quindi Alina viene lasciata sola nelle stanze di Alexander. Qui interviene Bagra che le rivela la verità. Alexander è suo figlio, è cattivo, vuole usarla e le ha mentito. Non è l'erede dell'eretico oscuro, ma è lui l'eretico oscuro. L'uomo infatti è l'immortale Darkling. Non vuole distruggere la faglia, ma vuole usare il potere di Alina per controllarla. Saputo tutto questo, Alina tenta di fuggire e i corvi ne approfittano per portarla via con loro. C'è poi la terza linea narrativa che riguarda il personaggio di Nina Zenik, una griscia e una corporalchi che viene catturata dai fanatici che odiano le streghe Idruschelle di Fierda, un'altra regione di questo mondo alternativo. Qui conosce Matthias, uno dei Idruschelle, e in seguito ad un naufragio i due siano costretti a collaborare e si innamorano. Quando dei griscia trovano Nina, lei è costretta a far arrestare Matthias per impedire che venga ucciso per la loro relazione. Questo però li allontana, Matthias infatti crede che Nina lo abbia sempre preso in giro. Lei quindi resterà da sola a Catterdam. Tornando ad Alina, alla fine riesce a sfuggire ai corvi e rincontra Mal. I due trovano il cervo, Alina sta per ucciderlo, per usarlo come amplificatore contro il Darkling, ma decide di risparmiargli la vita. A farlo fuori ci penserà proprio il Darkling, che userà le ossa del cervo per fare un collare d'osso ad Alina, in modo da controllare il suo potere. Qui Alina scopre non solo di essere controllata dal Darkling, ma anche che Genia, la sua amica e confidente, ha sempre lavorato per lui e lo ha aiutato ad uccidere il re e a prendere il potere. Copriamo così il passato di Alexander, che ha vissuto quando i griscia erano perseguitati ovunque e ha visto la propria fidanzata uccisa davanti ai suoi occhi. Ha deciso a vendicarsi sui responsabili e ha deciso di usare una magia proibita che ha accidentalmente creato la faglia. Che triste storia. Fatto sta che ora è uno psicopatico. Il suo obiettivo infatti non è distruggere la faglia, ma farla espandere e usarla per conquistare il continente. Cosa che cerca di fare durante la traversata nella faglia con Alina. Sulla nave sono sgattaglialati anche i corvi e Mal, che cercheranno di aiutare Alina contro il Darkling. Lei però non ha bisogno di aiuto. Pare infatti che lei abbia risparmiato la vita del cervo e lei abbia fatto guadagnare il potere dell'amplificatore, che non è mai stato di Alexander. Quindi combatte contro l'uomo il quale cade nell'oscurità e viene attaccato dagli stessi Volkra che ha creato. La trama si conclude con lei e Mal al sicuro dall'altro lato della faglia. L'intenzione è di nascondersi e cercare di capire come diventare più forte per poter effettivamente distruggere la faglia. Grazie ai suoi costosi gioielli Alina riesce a comprare la propria libertà dai corvi che la lasciano andare. Questo creerà loro dei problemi con Pecca Rollins, ma Kaz ha un piano per il quale servirà una spaccacuore. E sullo sfondo vediamo Onnina. Questo vorrà dire che le loro strade stanno per incontrarsi. L'ultima scena ci mostra come il Darkling sia sopravvissuto all'attacco dei Volkra e abbia un nuovo potere. Può creare dei mostri d'ombra che sono sotto il suo controllo. Si conclude così la stagione 1. Adesso avete una panoramica completa di cosa è successo e siete pronti per gustarvi la stagione 2. Speriamo bene. Se questo video vi è piaciuto lasciate un like e un commento, fatemi sapere che cosa ne pensate. Per oggi è tutto, noi ci vediamo, si fa perdere al prossimo video e ciao!